Adrenalina sette rosa, azzurre pronte all'ennesima battaglia con l'Olanda, campione d'Europa, nazionale muscolare e aggressiva, che però hanno superato nel girone d'andata. A Trieste l'Italia gioca per conservare il primo posto nel gruppo, garanzia di un salto diretto alle semifinali di Europa Cup. Fondamentale vincere sempre, questo è il nostro motto dall'inizio di questa stagione, non che non lo fosse in quella passata, ma in questa abituarsi a vincere vuol dire abituarsi a gestire partite importanti. Ho detto alle ragazze sempre di scendere in acqua facendo finta che sia un quarto di finale di una qualifica olimpica, un quarto di finale di un evento importante. Sono quelle emozioni, quelle sensazioni che ci dobbiamo andare a ricercare e quindi ben venga a farlo con squadre importanti. Fabio Conti potrebbe essere costretto a rinunciare ad un centro boa. Rosario Aiello è ancora sofferente alla schiena, si deciderà in extremis, ma lo staff tecnico è orientato a non rischiare la Catanese. Sarà una partita dura, non mancherà qualche colpo proibito. Eh sì, diciamo che è una partita molto fisica, perché comunque loro tendono a metterla molto sull'aggressività e magari noi appunto per la nostra stazza se non reagiamo bene possiamo subire il loro gioco, quindi si può incappare poi nella stanchezza, questo gioco più lento. Però sono fiduciosa perché secondo me stiamo facendo un buon percorso fino adesso, quindi sarà una bella partita.